Siccome il monte di Pietà era chiuso, vai dallo charcutier qui alla cantonata, eh? Da chi? Dallo charcutier alla cantonata. E chi è questo charcutier? Il pizzicagnolo, il salomiere. Il casadoglio? Eh. E parla chiaro. Il bottegaio. Oh. Gli lasci questa roba impegno e ti prendi tranquillo e metti di spaghetti. Non pigliare la pasta grossa perché non la digerisco. Asqua, tu con questa fame digerisci pure le corde di controbasso. Va bene, lasciamo andare. Poi ti fai una bella buatta di pomodoro, eh? Perché a me gli spaghetti piacciono pieni di sugo. A proposito, il sugo come lo facciamo? Che dici? Con la salciccia? Con la salciccia? Eh? Salciccia? Con la salciccia. Ti fai dare un chilo di salciccia. Non pigliare quella stantia, quella già fatta. Quello c'è la macchina di vita carne. Piglia la pella, l'infila. Trrrtata. Trrrtata. Te la fa davanti a te. Chiaro? E poi rimaniamo così asciutti asciutti. Solamente spaghetti e salciccia. Vogliamo fare la bella padellata di uova? Eh? Uova in padella. Uova? Eh? Uova? Sì. Allora, dieci uova. Tu le vuole e mangi? Me le dai, me le mangio. Assicurati che siano fresche, eh? Tu le agiti. Se sono fresche, te le piglie. Se no, desisti. Eh? Come le vogliamo fare? Con la mozzarella? Sì, facciamole con la mozzarella. Le uova vanno fatte con la mozzarella. Ti fai dare mezzo chilo di mozzarella di Aversa, freschissima. Assicurati che sia buona. Piglia queste dita, premi la mozzarella. Se colo il latte, te la pigli. Se no, desisti. Oh, che altro? Niente più. Un po' di frutta secca. Ah, poi ti fai dare pure cinque lire in contanti. E vai fuori di limpetta dal vinaio, a nome mio. Qua lì mando Don Pasquale il fotografo. E ti fai dare due litri di gragnano frizzante. Assicurati che sia gragnano. Tu lo assaggi. Se è frizzante, lo pigli. Se no... Desisto. Desiste. Oh, che altro? Ah, tornando qui a casa, affiando al portone c'è il tabacchino. Pigli due sigari. Uno per te e uno per me. E il resto me lo porti. Ma qua, dimmi una cosa. Ma qui dentro c'è il palto di Napoleone. Che c'entra il palto di Napoleone? E me... C'è il palto di quando ho sposato mia moglie con Cetta. Lo conosco, lo conosco, quel palto. Se io vado allo chartonier, con questo palto, quello me pigli a calci. Hai capito? Che c'è il palto.